eccoci qua con qualcosa di insolito voglio provare a farlo in diretta con voi sto navigando in incognito con chrome e vediamo se funziona la home si accetta tutto perfetto allora come vi dicevo sto facendo una semplice prova voglio vedere le macchine quelle che sono internet in questo caso se veramente funziona come ci dicono non so andiamo a scrivere cambio climatico ok guardate che meraviglia 13 milioni 700 mila risultati in 056 secondi meraviglioso qui abbiamo 10 voci per pagina saltiamo alla decima e come vedete abbiamo sempre pagina 10 13 milioni 700 mila risultati andiamo alla pagina 14 state pure con me 13 milioni 700 mila andiamo avanti ancora fino a pagina 18 abbiamo 10 risultati per ogni pagina andiamo alla pagina 22 a resistete perché è importante vedere il nostro amico internet come funziona arriviamo alla pagina 25 e abbiamo solo 241 risultati ma tutti quelli che avevamo prima tipo a pagina 24 erano 13 milioni 700 mila ma come è possibile una cosa del genere riproviamo ancora questa volta no grazie non voglio accedere sono in incognito terra piana interessante no 7 milioni 250 mila in 053 secondi fantastico come vedete solo per farvi vedere siamo a pagina 10 e abbiamo ancora 7 milioni e 250 mila risultati andiamo a pagina 14 vediamo vedete sempre 7 milioni 250 mila risultati pagina 18 pagina 18 fantastico andiamo avanti pagina 19 vabbè 187 risultati ma tutti i risultati che c'erano prima dove sono finiti ma veramente dai pagina 18 abbiamo ancora 7 milioni e andiamo avanti di una pagina avanti stavolta vediamo eccolo qua quindi internet è una ciofeca ragazzi non fidatevi che menzogne che schifo ciao ah no facciamo un'altra prova tinelli di no 476 mila risultati facciamo la stessa prova ricercate non approvvito come nessun risultato solo la pagina 8 proviamo la pagina 7 476 mila però a pagina 8 vediamo 476 mila e a pagina 9 vediamo ehi funziona 80 risultati finito qua eh tinelli dino solo 80 risultati non vale proprio niente eh che caspita tinelli dino my movie my movies ma dai dino tinelli dino my movies eccolo qua ma dai anche su my movies accetto tutto accetto tutto grazie 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 grazie